Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video voglio parlarvi di come pescare in Paper Mario di Origami King. Per pescare vi avvicinate ad una canna da pesca, tutto quello che dovete fare è premere i dorsali del controller, che sia Pro o Joy-Con, dopodiché dare un colpo verso avanti, quindi simulare tipo il lancio della lenza e attendere. Come potete vedere i pesci abboccano facilmente, non appena un pesce abbocca uscirà fuori l'icona del controller, quindi dovete dare uno strattone verso di voi premendo il pulsante B per tirare su il pesce. Potete pescare sia pesci da aggiungere alla vostra collezione che tesori di vario tipo, quindi con questa attività secondaria avete la possibilità di ampliare la vostra collezione.